pesa come esempio perché ce ne sono altri ma questo qua è quello che mi ha fatto più ridere è quello che ho anche pubblicato su Instagram grande figlio di puttana o risercici Paolo con tanti soldi o ti sgozzo te e tua madre bla 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 spesso la gente si pulisce il buco del culo approssimativamente non i ciccioni, non voi ciccioni io no, io no tutta la gente, la gente non direi anche ciccioni di solito, io conosco ciccioni che se io rendosi il culo fa puzzare quanti ne conosci? sei, almeno sei ma hai già provato? no però ad esempio ho conosciuto una ragazza che... no Marco fermati qua